I test sierologici per insegnanti e personale ATA verranno fatti a scuola già da lunedì. Troppe le richieste alla ASD per essere smaltite con le modalità veloci utilizzate fino a questo momento. E resta in Salento il problema dei medici di base che si erano opposti a questo protocollo, rifiutandosi di effettuare i test sierologici per il rientro a scuola. Sono circa 300 quelli che, legittimamente secondo la legge, hanno detto di no. E allora la ASD, dopo aver studiato il piano B, ovvero la possibilità di effettuare i test in determinate strutture selezionate sul territorio, adesso varia il piano C, i medici a scuola per sopperire alle carenze. Le lezioni ripartiranno il 24 settembre, restano 10 giorni per poter espletare tutte le pratiche sanitarie richieste. E anche un pizzico di disordine tra chi aveva già chiesto il sierologico al medico di famiglia e poi ha ripetuto la richiesta alla mail messa a disposizione dalla ASD. Anche per gli insegnanti e per il personale scolastico la possibilità di sottoporsi al test è comunque facoltativa, ma negli ultimi giorni le richieste si sono impennate in maniera significativa.